La Andrangata si conferma come l'organizzazione mafiosa più potente e pericolosa, caratterizzata da una forte vocazione affaristica imprenditoriale e dal predominio del narcotraffico. Lo sottolinea il PG della Cassazione Riccardo Fuzio in apertura di anno giudiziario. La spiccata capacità espansiva anche su scala internazionale, spiega Fuzio, le modalità di infiltrazione e la notevole forza correttiva hanno trasformato l'organizzazione calabrese in una dinamica e spregiudicata holding economico-finanziaria. In questo senso l'Andrangata si presenta come mafia innovatrice capace di modificare le regole basilari della tradizione criminale per affrontare le sfide del futuro dotandosi finanche di una sovrastruttura occulta e riservata formata da una componente elittaria che assicura all'organizzazione l'attuazione dei programmi criminosi anche negli ambiti strategici della politica, dell'economia e delle istituzioni.